San Valentino stasera, le dispiace passarla da solo. Amore, Robby viene con noi al cinema, ok? Perché non resta da casa? Che sei pazzo, se restiamo a casa dobbiamo parlare. Tu non parlai, se non parlo mi devo accogliare. Beatrice Benassi. Roberto Marino. Robby, Roberto! Mi dica di lei. Cleptomane. Narcolettica. Mi capita soprattutto quando mi emoziono. Con il suo compagno si emoziona? E che mi piacerebbe conoscerla meglio. Sono settimane che mi corteggia regalandomi delle cose assurde. Tempo perso, non mi fa per tempo. Che ne sai tu? Istinto. Basta, ho detto basta, basta, no? Persona assolutamente da evitare. Perché io sento proprio di avere delle cose in comune con questa ragazza, capito? L'amore lo riconosci dall'odore, no? E lei ha l'odore della donna della mia vita. L'odore? Il profumo dell'amore? Ma chi sei, Gigi D'Alessio? E secondo me ti farebbe bene ogni tanto lasciarti andare, proprio a mollare un po'. Mi guardano tutti! Questi gritti! C'erresti un buon papà tu? Adesso si è messa pure in testa davvero un figlio. Forzarci loro! Questa è la classica storiella di sesso. Te la vedremo ancora un paio di volte e poi puff, scompare. No? Secondo lei ha avuto un'altra amnesia. Beatrice! Bea! Sono Roberto! Sapessi per quanto tempo ti ho cercato, Bea? Chiedo bene, abbiamo avuto dei problemi nell'ultimo periodo e non rammento tutti gli individui con i quali solevo intrattenermi. Penso positivo, scusa. Magari ci si libera la stanza e... Che cosa ci vogliamo fare? Ce la vogliamo affittare. Che cosa ci vogliamo fare?